E' in preparazione di prossima uscita un libro, un nuovo libro scritto da te e da? Giorgio Motola. Abbiamo fatto un libro per la Rizzoli nuovo che si intitola Processare lo Stato. Un giornalista non fa processi, non è una cosa che fanno i giornalisti, però Processare lo Stato è il termine corretto per definire il momento che siamo vivendo, perché ormai sulla trattativa sono uscite molte cose, in particolare noi affrontiamo un argomento, cioè quello che è successo nelle carceri, perché siamo convinti che la trattativa sia diventata una sorta di fiume carsico e attraverso una serie di iniziative, di protocolli che hanno creato dal profilo molto discutibile legalmente, si è riusciti a bypassare l'autorità giudiziaria, quasi ad escluderla dal territorio delle carceri e far sì che quello che avveniva nelle carceri non era più conosciuto, gestito direttamente dall'autorità giudiziaria e c'è stato almeno sicuramente un momento in cui questo è stato attuato. Poi grazie a tutta una serie di altre cose il progetto è fallito, ma è molto interessante studiarlo ed è molto interessante tenerlo presente. Quando uscirà? Ma io penso che entro a fine di novembre, sarà già nelle... Ci riproponiamo e speriamo di incontrarci per poterlo presentare con la copertina proprio. Certamente, grazie. Grazie.